Carissimi genitori digitali, benvenuti in questa nuovissima puntata di Essere genitori nell'era digitale. Un saluto da Ivan Ferrero. Oggi parliamo di un tema molto importante e purtroppo, ahimè, ahimè, anzi, sempre molto attuale, sempre più attuale tra i nostri ragazzi, che è l'hate speech, ossia i discorsi d'odio. Potremmo anche tranquillamente tradurli con parole d'odio, che è più elegante. In che cosa consiste? Molto semplicemente avete presente quando qualcuno, non solo i nostri figli, i nostri ragazzi, perché purtroppo colpisce anche gli adulti, avete presente quando una persona pubblica un post, un qualcosa online e ad un certo punto iniziano i cosiddetti leoni da tastiera a commentare in modo molto pesante sotto il post. E questo ovviamente provoca spesso anche problemi a livello psicologico, perché comunque è un discorso che va a colpire non solo ciò che noi stiamo scrivendo, ma proprio la nostra identità. Perché? Perché c'è sicuramente un discorso di prendercela, perché noi pensavamo di scrivere un post bello, ispirante, e invece poi arrivano questi qua e iniziano a commentare in malo modo. Ma la cosa che alimenta ancora di più questa nostra sensazione, quindi questo nostro rimanerci male, a volte anche in modo molto estremo, è il fatto che i post che noi mettiamo su internet in realtà non sono semplicemente dei contenuti, quello che dico sempre, anche soprattutto durante la formazione con gli operatori del settore, è che il digitale, il web, il digitale in generale, è un luogo prima di tutto cognitivo ed emotivo. Quindi nel momento in cui noi pubblichiamo un qualcosa, può essere una foto, una clip, anche solo una citazione presa da qualcun altro, per carità, ma nel momento in cui noi la stiamo mettendo, quindi la stiamo mettendo noi, ecco che tutto questo si ammanta di noi, della nostra personalità, della nostra persona, della nostra anima. Allora ecco che nel momento in cui qualcuno viene ad offendere il nostro scritto, ecco che è come se stessa offendendo noi, noi lo percepiamo veramente sul personale. Ora, questa è la versione più light del late speech, però facciamo un passo indietro perché così ci capiamo meglio. Spesso l'late speech viene confuso con il cyberbullismo e con il fenomeno del trolling. Con il cyberbullismo un po' meno è più facile trovare una linea di demarcazione, ma con il fenomeno del trolling è molto più difficile. Quindi, vabbè, il cyberbullismo è sì, è un atto sul web, ormai lo sappiamo tutti, eccetera eccetera, che è reiterato, ripetuto e con l'idea di fare del male all'altra persona. Quindi vuol dire, non è tanto il commento in sé, quanto il fatto che io posto dei contenuti proprio volutamente per denigrare un'altra persona. Denigrarla o comunque metterla in cattiva luce in modo che anche altre persone l'attacchino o comunque fare anche tutte le figure a livello sociale e quindi anche ledere l'immagine dell'altra persona. Ok, questo è più cyberbullismo. Veniamo poi alla distinzione molto labile in realtà, molto sfumata, tra hate speech e trolling, il trolling, i famosi troll. Il trolling in realtà spesso viene visto come un sottoprodotto, un sottinsieme dell'hate speech oppure l'hate speech come un sottinsieme del trolling. In realtà abbiamo due, potremmo dire, due dinamiche un po' differenti. Il trolling è più quando una persona commenta con il semplice gusto, potremmo anche metterlo così, di mettere in difficoltà l'altra persona, quindi chi ha pubblicato il post oppure anche chi sta commentando il post. Quindi non necessariamente il creatore del contenuto, ma anche qualche commentatore sotto. Io come troll, il mio intento, quindi non è tanto quello di denigrare l'altra persona per recarle un vero danno, per farle del male, in questo caso psicologicamente, ma il mio vero intento è quello di divertirmi come metto in difficoltà l'altra persona. Nel momento in cui questo commento invece vuole andare proprio a colpire la persona è che possiamo iniziare a parlare di discorso d'odio, parole d'odio, hate speech. Ora, esistono ovviamente tante precauzioni, quindi in termini di prevenzione e anche di intervento, che noi dovremmo adottare non solo nei confronti degli adulti, ma anche nei confronti dei ragazzi. Adesso parliamo dei ragazzi. Ad esempio ho detto il discorso dell'autostima, l'auto-efficacia e tante altre cose che meritano comunque degli approfondimenti a sé, che arriveranno. Oggi vi parlo di un piccolo escamotage che voi potete consigliare ai vostri figli oppure agli amici dei vostri figli o comunque ai ragazzi con cui avete a che fare che magari sono in difficoltà. Perché? Perché qualcuno ha commentato l'odio, appunto, ha sparso odio tra i commenti di un suo post o comunque di un suo contenuto online. Questo piccolo escamotage, che sembra banale ma in realtà è molto molto potente, si fa chiave, ecco, proprio di come vengono disegnate le piattaforme dei social network con meno il sistema dei commenti. Vi spiego subito. Se voi andate a vedere i commenti, ma proprio visivamente come sono realizzati, voi vedete che quando ad esempio accedete a Facebook, Instagram o piattaforme simili, quando un post riceve tanti commenti, questi commenti non vengono subito visualizzati tutti per interi, una lunga lista verticale, assolutamente no. Poi cosa trovate? Trovate un commento, solitamente l'ultimo, oppure il più rilevante secondo un algoritmo della piattaforma, o al massimo due o tre. Poi cosa c'è? C'è l'opzione carica commenti precedenti, carica elementi precedenti. Allora ecco che se io clicco lì me ne mostra altri 10, 20, dipende dalla piattaforma. E così via se il post ha ricevuto tantissimi commenti. Ora, questo fa sì che mentre noi scrolliamo, perché attenzione perché questo è molto importante, mentre noi scrolliamo noi vediamo il post e vediamo solo gli ultimissimi commenti. Ora, è stato provato, proprio scientificamente provato, secondo ricerche accademiche, che quello che noi vediamo, leggiamo come commenti, va ad influire, in buona percentuale, lo stato emotivo del commento che noi andremo a scrivere. Perché? Il discorso è anche molto semplice. Perché? Perché se io sto scrollando attraverso i post, è più facile che io vada ad interagire su quei post oppure commenti, per cui io mi trovo in quel preciso momento più in risonanza. Allora ecco che se io sono arrabbiato perché penso di aver subito un'ingiustizia, ad esempio da parte, che ne so, del governo, e trovo un post in cui si, magari anche un post di qualche politico, e però sotto solo commenti, vedo gli ultimi commenti, sono tutti arrabbiati, proprio letteralmente incazzati verso questa persona, verso un provvedimento del governo e così via, allora ecco che a me viene più voglia di inserirmi in una discussione per sfogare anche il mio disagio. È la stessa cosa se io sto vivendo un periodo di forte appunto disagio, allora ecco che, adesso usciamo dal discorso dei politici, qual era un esempio per vincere facile, però usciamo da questo discorso e pensiamo ad esempio a dei post normali. Se io trovo un post di una persona normalissima, che può essere il mio vicino di casa, e vedo sotto che gli ultimi commenti in qualche modo risuonano col mio stato d'animo, io sarò più portato, spinto, mi sentirò più autorizzato anche ad interagire, ad intervenire nella discussione, e lo farò col mio stato d'animo influenzato da questi ultimi commenti. Tradotto, vuole dire che se io sono in questo momento una persona in uno stato d'animo particolarmente fumantino, per cui ce l'ho con qualcuno, sento dentro di me, non me ne accorgo, però sento dentro di me il bisogno di sfogarmi, di scaricare questa rabbia su qualcuno o qualcosa, ecco che se io scrollo e vedo che c'è un post, magari normale, con commenti molto positivi, gli ultimi commenti in questo caso, parliamo sempre degli ultimi commenti, questo è molto importante, lo vedremo subito perché, quindi gli ultimi commenti positivi, e sarà molto difficile che io interagisca in quel commento, sì, a volte sì, perché esprimo un disagio molto forte, però ovviamente parliamo di percentuali, però sarà sicuramente molto meno probabile, anziché se io scrollo e a un certo punto vedo un post con dei commenti negativi. Attenzione perché sto continuando a sottolineare gli ultimi commenti, quindi il segreto qual è? Uno dei piccoli accorgimenti ovviamente, per attenzione perché questo è un accorgimento molto pratico, molto concreto, che si può fare oggi stesso, gli altri ovviamente richiedono più accorgimenti, la prevenzione, l'intervento e così via. In questo caso quindi l'accorgimento qual è? È quello molto semplicemente di chiedere agli amici, alle persone che conosciamo, di commentare in modo positivo sul nostro post. Se noi vediamo che questo post inizia a ricevere commenti negativi, allora ecco che possiamo ribattere a questa cosa, chiedendo ad altre persone, ovviamente persone di nostra fiducia, e quindi sentono veramente questa positività nei nostri confronti, di commentare. Ovviamente poi probabilmente l'odiatore, molto probabilmente per un po' cercherà di tenere il passo, ma prima o poi mollerà, perché a un certo punto, perché non otterrà più soddisfazione, e passerà il post successivo. È brutto a dirla così, però semplicemente a un certo punto, ok, non è più l'ambiente per me, non è più terreno fertile per poter scaricare la mia rabbia o il mio disagio, e allora faccio le valigie e me ne vado, viaggio verso altri lidi e altri orizzonti. Quindi un escamotage molto molto semplice, ma molto molto efficace, che può aiutare a ridurre sensibilmente questo fenomeno del hate speech, nel momento in cui si verifica, ma anche quando non si verifica, però possiamo anche interpretarla più in termini di pronto intervento, ossia fare in modo che gli ultimi commenti visibili siano sempre commenti positivi. Bene, per oggi è tutto, un salutone, prima di salutarci, prima di chiudere il video, trovate nella descrizione il mio indirizzo e-mail per pormi dubbi, domande, contattarmi, anche magari indicarmi, perché no, quali sono i temi che voi vorreste vedere trattati attraverso i miei canali. Questa è una cosa per me molto importante, perché così capisco bene di che cosa voi effettivamente avete bisogno, e mi aiutate a rendere un servizio sempre più ritagliato su misura per voi. Inoltre trovate anche il link per il canale Telegram in cui condivido queste cose che faccio online, quindi non solo video, non solo audio, ma anche articoli che scrivo in giro, più riflessioni e così via, sempre legate alla psicologia del digitale. Noi ci vediamo la prossima volta, un saluto da Ivan Ferrero, ciao!